Purtroppo io ho fatto 21 anni di Formula 1 e 340 Gran Premi e non sono mai salito sul podio. Nonostante questo l'affetto degli appassionati è grandissimo e me lo dimostrano spesso in giro per il mondo e sui circuiti. Però ho vinto il Motor Show parecchie volte, quindi era la gara del fine anno e era anche una soddisfazione perché qualche volta l'abbiamo vinto anche contro Crase e più blasonata della nostra e che in pista facevamo fatica a battere.